Hai mai provato a organizzare una partita? Devi avere le liste di giocatori, preparare le convocazioni, comunicare con i giocatori, ricevere le conferme, comunicare i dettagli dell'incontro, compilare la lista dei presenti, avvisare di eventuali spostamenti o cambiamenti di programma. Anche la più semplice delle partite richiede un tempo lunghissimo di preparazione che comprende anche la comunicazione con gli atleti e spesso con i loro genitori. Come fa un team manager a gestire tutto questo insieme a moltissimi altri aspetti dell'organizzazione della squadra? Mio Team è la soluzione! In pochi minuti ti iscrivi e sei operativo. Con Mio Team crei e tieni aggiornati i profili dei tuoi atleti. Per ciascuno puoi decidere se comunicare tramite email, sms o web. Crea le tue partite, scegli i tuoi giocatori e lascia che Mio Team invii le convocazioni. I giocatori potranno rispondere e le conferme saranno raccolte automaticamente dall'applicazione. Devi inviare un messaggio all'ultimo momento per un cambio di programma o un avviso? Non ti preoccupare e lascia che Mio Team lo invii a tutti i tuoi giocatori raccogliendo la conferma di lettura da ciascuno. Mio Team ti offre molto altro! Si adatta ad ogni sport! Tiene traccia di tutti i pagamenti ricevuti per non avere dubbi di quanto hai incassato. Organizza le schede dei giocatori con tutti i dati che ti interessano. Esporta i dati per creare elenchi per l'arbitro. Utilizza il forum per avere un ambiente di comunicazione protetto con la tua squadra. Mio Team è semplice da utilizzare. Vi puoi accedere da PC, smartphone o tablet. Ma la cosa più importante è il nostro supporto! Vogliamo solo utenti felici e saremo sempre al tuo servizio per rispondere ad ogni tuo dubbio. In tutto questo il bello è che Mio Team è gratuito per squadre non professionistiche di ogni dimensione. E lo sarà per sempre! Iscriviti ora a Mio Team e torna a goderti il bello dello sport!